Salve ragazzi, buona giornata a tutti. Sto realizzando questo video per mostrarvi a tutti voi la mia ultima invenzione. La mia ultima invenzione è un plugin per il mio Content Management System. Allora in questo video vi farò vedere una piccolissima dimostrazione delle potenzialità di questo nuovo plugin che ho inventato. Un plugin molto semplice che dà una resa grafica, dà un effetto grafico molto interessante per il vostro sito web. Allora, io l'ho già messo online in questo momento, sta girando sul mio home server, l'ho già installato il plugin. Entrerò nel sito come amministratore in modo da attivarlo. Anch'io non l'ho ancora testato, è la prima volta che entro dentro e lo provo e mi auguro che tutto vada per il verso giusto. Allora, in questo momento vado su configurazione, sotto configurazione trovo il pannello per settare tutti i plugin. Lo scendo nella parte in basso. Eccolo qua. Allora, lo abilito, vi metto la spunta e lo vado a configurare. Allora, questo plugin, cosa fa questo plugin? Questo plugin fa un effetto grafico di sfondo molto interessante e molto alla moda. Praticamente lui mette di sfondo una carellata di immagini, ovvero crea quello che in inglese si chiama slideshow, con le immagini che ci sono nel vostro fotoalbum. Oppure in un altro fotoalbum che voi potete andare a indicare mettendo l'ID del fotoalbum. Il plugin in automatico setta l'ID del fotoalbum principale del vostro sito. Chiaramente, manualmente, uno può andare a settare dei sotto sottoalberi, perché la struttura dei fotoalbum di questo Content Management System è una struttura ad albero. Può andare a settare qui mettendo l'ID del proprio fotoalbum personale e non quello del sito. Può andare a settare qui dentro il fotoalbum di un altro utente, oppure un fotoalbum creato apposta per lo slideshow delle immagini di Batchground. Allora, il secondo parametro che andiamo a settare sono l'intervallo in secondi che deve passare tra una foto e l'altra. Praticamente, qui decidiamo ogni quanti secondi l'immagine di Batchground del sito deve cambiare. Qui possiamo andare a settare, se vogliamo che lo slideshow appaia solamente nella home page oppure in tutte le pagine del sito. E un altro settaggio interessante è l'effetto fotografico. L'effetto, il photo effect, praticamente è di tre tipi. Ok, e questa è proprio la cosa interessante di questo plugin, perché questo plugin lui trasforma le foto del vostro fotoalbum, le trasforma dinamicamente mettendogli l'interlacciatura, per cui le foto interlacciate hanno un effetto veramente cool. Sono molto belle. Io ho previsto due tipi di interlacciatura. Quella scura, l'interlacciatura dark, e quella classica che tutti voi conoscete, che ha un effetto veramente molto bello. Però è molto, diciamo, si adatta per i siti che hanno dei font chiari. Perché l'immagine con l'interlacciatura scura avrà un contrasto, una resa grafica efficace con i siti web con il font chiaro. Per cui questo sito web non è idoneo per l'interlacciatura scura. Per questo sito web qua è meglio un'immagine con l'interlacciatura chiara, perché così risulterà meglio il contrasto. Altrimenti l'effetto verrà... si otterrà un sito poco leggibile. Allora io vado a settare, per fare questa prova, l'interlacciatura chiara. E qui dentro io gli posso dare anche un color effect. L'effetto colore che io gli posso dare è il seppia, che è un effetto colore che tutti voi conoscete. Gli posso dare l'effetto bianco e nero e un effetto trendy. L'effetto trendy è un effetto che lui trasforma delle foto che avete magari appena scattato con la vostra macchina fotografica modernistima. Lui le trasforma in foto, non dico antiche, rimangono sempre a colori, ma sembrano delle foto scattate negli anni 70. Con i colori, diciamo, delle macchine fotografiche Polaroid. Allora, questi tre effetti che vengono aggiunti dinamicamente sulle foto, sono stati creati con un algoritmo da me ideato, che crea l'effetto seppia, l'effetto bianco e nero, l'effetto trendy, che è veramente velocissimo. Siccome mi sono scartabellato bene diversi sorgenti di programmazione per quello che è Visual Studio, ovvero l'ambiente Microsoft, vi garantisco che non troverete da nessuna parte un software che abbia un code di trasformazione delle immagini veramente così veloce. Questo cosa vuol dire? Che queste operazioni non andranno ad impesantire il carico di lavoro del server. Ecco, sono stato molto a te. Chiaramente avrei potuto fare l'effetto seppia facendo il parsing pixel per pixel della bit, ma dell'immagine cavolate varie, come fanno tutti. Però sarebbe stato un effetto seppia che avrebbe consumato risorse nella CPU, diciamo. Io ho creato questi effetti in modo dinamico con un codice che è veramente molto efficace, per cui se voi potete anche andare a vedere, se volete andare a vedere tutto il sorgente open source, per cui siete liberissimi di andare a farlo e andare anche a scopiazzare quelli che sono i miei algoritmi. Ok, allora io in questo caso setto immagine interlacciata, non do nessun effetto colore e do conferma. Ok, il plugin è stato settato, perché questa schermata qui la posso chiudere. Qui dentro, allora dov'è che ho messo? Ecco, qui ho messo badgegrounds, let's show, ho messo la spunta per cui vi ho detto di attivare questo plugin, vado in fondo alla pagina e salvo la configurazione. Confermo, lui la configurazione l'ha salvata. Ecco, infatti l'immagine mi è apparsa un'immagine... Ecco, le immagini vengono caricate con una sequenza random, per cui non si ripeterà mai la stessa sequenza di immagini. Ecco, è veramente molto cool vedere l'interlacciatura. Per vedere meglio l'effetto vado nell'home page, che qui è troppo... è più pasticciato. Eh, è veramente bellissimo vedere l'effetto dell'interlacciatura sulle immagini. Ecco, questo qua è un sito con dei colori chiari. Ecco, l'effetto, la resa migliore è sui siti con i colori scuri. Con un sito con i colori scuri e quindi il font chiaro e l'interlacciatura messa di sfondo con l'immagine interlacciata, con l'interlacciatura scura, dà un effetto grafico ancora migliore. Devo dire che l'effetto grafico... perché in effetti l'interlacciatura non si vede mai chiara. L'interlacciatura è sempre scura. Però chiaramente questa invenzione dell'interlacciatura chiara è stata un artefatto per poter implementare anche questo effetto con i siti che hanno dei colori chiari. Ecco, posso andare a cambiare il template del sito e provare l'effetto con... con un template che abbia i colori scuri e i font chiari. Ecco, posso anche andare a fare questa... questa prova qua. Allora... facciamo così, allora torno nel pannello di configurazione e vado qui dentro a provare un altro... un'altra skin grafica. Ecco, adesso io non me le ricordo quelle che sono, quelle chiare e quelle scure. Vediamo se un po'... così... a memoria... una di queste skin... Ah, forse questa qua moderna. Adesso proviamo... proviamo la skin questa qua moderna. Infatti... e a questo punto torno a settare il plugin e gli dico che io le immagini di sfondo le voglio con l'interlacciatura scura. Allora... torno a settare il plugin... ro e questo punto... allora... Ecco come potete vedere la resa con l'interlacciatura scura sono veramente molto trendy queste immagini, molto belle. Allora torno nella pagina principale, ecco come potete vedere la resa grafica del sito, praticamente le immagini interlacciate fanno sì che l'immagine di sfondo non è un'immagine fotografica del computer classica come voi la conoscete ma l'immagine di sfondo sembra un'immagine presa dallo schermo della televisione. Questo è l'effetto trendy dell'interlacciatura perché l'interlacciatura è un artefatto che applica la televisione all'immagine io ho deciso di utilizzare l'interlacciatura per fare questo effetto. Siccome questo è uno slideshow ogni 60 secondi l'immagine di sfondo anche se io non navigo cambierà oppure cambia immediatamente quando io andrò a finire su un'altra pagina. Infatti posso provare a cambiare pagina e vediamo che l'immagine di sfondo in questo caso random ha ripreso quella di prima però posso fare altre tentativi, ah sono finito su un altro sito ecco comunque questo era quello che volevo farvi vedere vi posso far vedere anche gli altri effetti andiamo a vedere così vi faccio vedere anche un po' qualche cosa torniamo a vedere gli altri effetti torno su configura qui da configura vado a premere il bottone per configurare questo plugin cioè la resa grafica di questo plugin è veramente straordinaria ecco da perché normalmente se voi mettete delle immagini in background il sito diviene veramente una schifezza dal punto di vista grafico fa schifo però invece così adattate con questo tipo di effetto la resa grafica è veramente eccezionale io a questo punto gli vado ad aggiungere oltre all'interlacciatura scura gli metto questo effetto trendy ovvero la foto in questo caso assume dei colori di foto scattate con una polaroid negli anni 70 gli vado a dare anche quest'altro effetto ecco come già potete vedere è eccezionale la resa grafica di questo plugin è veramente eccezionale mi ributto da qui sull'home page ecco in questo caso per esempio qui in questo buco riusciamo bene a vedere ecco questa qua è un effetto fotografico molto molto interessante siccome io lavoro esclusivamente nell'ambito dell'open source a titolo disinteressato gratuito e free per tutti quanti chiunque volesse può andare a scaricarsi il mio content management system e quindi dare un'occhiata al codice sorgente che fa tutto questo il plugin veramente come codice è veramente poca cosa è una pagina saranno due videate di codice per fare questa cosa non è che non è chissà che cosa due videate di codice di plugin e comprende anche la parte del le schermate di imputazione per lato configurazione comprende tutto sono due paginate di codice per creare questo effetto grafico veramente molto interessante ecco intanto lo slideshow continua a girare ecco sono proprio veramente contento perché userò fin da subito questo plugin per il mio sito internet perché da qualche qualche cosa in più il sito si vede fin da subito molto più accattivante diciamo il visitatore non dico che rimane affascinato perché da un sito internet cioè ce ne vorrebbero di cose per lasciare affascinato il visitatore però da un effetto una resa grafica veramente molto interessante per il cosiddetto viaggiatore navigatore della domenica il navigatore della domenica che capita in un sito trendy con le immagini interlacciate lui dirà subito cavolo questo sito qua c'ha le immagini interlacciate balza subito all'occhio questo fattore qui di queste immagini che sono interlacciate e hanno un effetto molto carino molto interessante ecco questo video concludo qui con questo video chiunque volesse andare a scaricarsi il mio content management system che è uno dei content management system sicuramente più scaricati della microsoft web application gallery lo può fare direttamente dal sito ufficiale il sito ufficiale che ha dentro moltissime istruzioni interessanti sull'uso di questo content management system è il sito ufficiale www.cmd.com cmsaspnet.com ecco questo è il sito ufficiale facendo click sul pulsante qua download il pulsante che va lampeggia voi potete andare a scaricarvi il cms ok ragazzi per oggi è tutto un cortese caloroso saluto a tutti quanti da parte mia e chi avesse informazioni me le può fare scrivendo un commento sotto questo video ciao a tutti